Bella ragazzi, questa sera come vedete siamo su Point Blank Italia Point Blank è un free to play FPS in prima persona abbastanza frenetico e molto divertente da giocare soprattutto la modalità demolizione ma io stasera giocherò la modalità normale diciamo cioè deathmatch a squadra e niente, stop un attimo il video per trovare una sala e riprendo dopo ok, ho ripreso il video è un normalissimo deathmatch, niente di che eh, mi respaw ok 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 ah, sbagliadissimo ok 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 non ti pre-fire per niente la testa devi vedere di fare un po' di kill perchè sto facendo leggermente skill dai esci voilà triple non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè. Preso, in faccia. Morici. Minchia, in testa mi ha preso. Vabbè. Grazie. E che mira, però. Boh, vedo gente saltare in arco. Preso. 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 Hola. Ok, ho capito come funziona. Bisogna aspettare due secondi ad ogni colpo. Bene, mi sembra adesso mi sono mosso troppo. Ah, facciamo così. Vado diretto veloce di mitragliatrice. Così la chiudiamo. Adesso, cominciamo a aperto. Adesso la chiudere da luce. Esci, ora, e stanno a cambiare questi bastardi. No, 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 no. No, 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 no. Eh, il respawn di merda. Vado volto in questo tanto, finito, abbiamo vinto. 90 e 64 Finito Bene Bene ragazzi Per questo gameplay è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao